Amici, fermi, 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 ma hanno messo Atlantide su Fortnite e nessuno mi ha detto niente? What? Cioè, io non gioco da tantissimo a Fortnite, però stavo parlando e mi hanno detto Oh, ma sai che ha messo Atlantide su Fortnite? Oh, cosa? Andiamo subito a provarlo! Quindi oggi, signori, andiamo a provare Atlantide, che non si chiama Atlantide, ma lo chiameremo sempre Atlantide Su Fortnite andiamo a scoprire tutti i suoi segreti e misteri che si celano dietro questo nuovo spot Come sempre, un invito a supportarmi, lasciando un mi piace, un commento, condividete a tutti il video Fate quello che volete come se fosse a casa vostra e speriamo di scoprire qualcosa di interessante Anche se, dato che questo video uscire in ritardo, saprete già tutto meglio di me, ma iniziamo Signori, siamo sul bus della battaglia e come avremmo detto nella intro, non mi ricordo Non gioco a Fortnite da tipo dal 96, quindi da un casino di tempo Il Castello Corallino, esatto, ecco come si chiama L'avevo già sbloccato perché volevo dargli un'occhiata, però sono morto subito Quindi ho detto, perché non farci un video, dato che siamo in un periodo di morire subito agli spawn? E quindi andiamo nel Castello Corallino Non ho visto più di tanto, sembra molto carino come spot, lo chiameremo per sempre Atlantide E vediamo se ci troviamo qualcosa, magari c'è anche un nuovo boss, non lo so Non mi sto informando su Fortnite perché ultimamente è un po' calaccia, mi sta un pochino annoiando di più Tra l'altro fatemi sapere nei commenti se Fortnite vi piace ancora come una volta L'audio è altissimo, devo abbassarlo un pochino, altrimenti mi esplodono le orecchie Detto già c'è un po' di gente, c'è un bel po' di gente in realtà Quindi vediamo di non morirci subito Ma la vedo dura Uh, allora là sopra c'è una cesta, dai non la prendo nessuno No, non, allora È mia, l'ho vista prima io la cesta quindi è mia, perfetto Tra l'altro ho scelto Aquaman con il tridente Dov'è il tridente? Vabbè, lasciamo perdere Ho scelto Aquaman e c'è qua un tizio che spavento Che spavento Che, eh, non è, secondo tentativo Devo riscaldarmi Andici, secondo tentativo, ma facciamo finta che sia il primo No, non è vero, è ancora il secondo, l'avete visto tutti, di sicuro vi avrò messo il pezzo E niente, è lontanissimo Oddio, quella che cos'è? È l'isola della, l'isola Ma che cacchio, non lo so, vabbè Comunque, secondo tentativo In realtà io volevo esplorare È lontanissimo, in teoria non ci dovrebbe andare nessuno Quindi ci vediamo dopo, appena perlo Ma questa qua è la barchetta, quella leggenda No, è quella Mmm, vorrei esplorarla, ma voglio andare qua Dai, ditemi se è quella lì, la barchetta Perché sinceramente non l'ho ancora riconosciuta Nel dubbio, in teoria E anche in pratica Perché c'è già un tipo? Cosa ci fa qui già un tipo? Cosa ci fa qui già un tipo? Oddio, non gli entro nei colpi Sono caduto, sono caduto Sotto, 360 Sotto, tutto, 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 tutto Quanti siete? Basta! Addio! Ma che cacchio! Cosa ci facevano già gli due tipi? Cioè, quanto ci ho messo ad arrivare? Sei ore? Sì, a quanto pare sì Vabbè, nel dubbio ci siamo salvati Ma tanto ora troveremo il tipo che ci spaccherà di brutto Però, ta-ta, guardate cosa ho trovato Ta-ta No! No, please! No, c'è pure la skin quella nuova No! Allora, dai, dai, dammi un pompa Dammi il tac, dammi il tac No, no, togliamo, non mi serve Però mitraglietta bene Mitraglietta molto bene Usiamo la tecnica del Non lo vedo E quindi non esiste E ce ne proseguiamo a lutare Altro Perché sinceramente siamo messi Abbastanza malino Più che altro perché non ho il pompa Mi basterebbe solo il pompa Vabbè, niente Non ce lo danno Ho capito come va a finire Volevo esplorare per vedere se c'era roba Però, c'è roba interessante Roba segrete Qualche easter egg Qualcosina di carino Ma a quanto pare Uno La safe non è a nostro favore Due Ho appena trovato il pompa più scarso del gioco Ma in realtà molti di voi mi avete detto che mi piace E tre Oh mio dio Quanto danno questi vasettini Ora se ne trovo un altro Vi faccio vedere quanto 16 Ok Va bene Lo accetto Lo accetto Uh lo scar Sì Almeno una gioia anche per master Togliamo qua Prendiamo sto pompa Facciamo finta che sia un bello Ma in realtà Non lo so minimamente usare Ma i vasetti Allora bene Abbiamo scoperto che i vasettini danno un po' di roba Questa qui Che roba sarebbe Che roba sarebbe Non lo so Ma è molto Particolare Che poi Secondo me L'acqua si abbasserà ancora Nella mappa Perché tipo Vabbè Qua magari no Però ci sono delle zone Non ancora scoperte del tutto Tra l'altro qua non ci sono mai stato Uh il peperoncino Sì Quanto è bello Cioè signori parliamo di quanto è bello Il peperoncino E soprattutto quanti ce ne stanno dando Guarda come corre L'acqua è più veloce del mondo Signore l'acqua è più veloce dal mondo Più veloce Dal mondo Allora Dicevo Dato che devo corrermene in safe E per il momento Che cos'è questo Vabbè Potremmo tranquillamente Aprirci questa cesta Poi in caso vi posso fare un mega giga Iper extra Mega giga Taglio Ci diamo pure la pozza E poi ci vediamo in safe Perché ci metterò di sicuro tre ore E non otterrò niente di interessante A meno che non troviamo qualcuno Non so cosa sto dicendo Quindi ci vediamo dopo Uh Bene Piccolo upgrade Vabbè signori Ci vediamo dopo Che poi stavo pensando Ma i lama Si trovano ancora Con questo accento molto incredibile Agora O no Perché io Vabbè che non ci gioco da un po' Ma tipo che non li trovo Da un'eternità Ma un'eternità è riduttivo Però dai almeno siamo arrivati in safe Abbiamo una kill Totalmente a caso Perché c'era solo il tipo Ehm Vabbè Quindi il nostro obiettivo è Oltre ad aver visto Che non ci cambia le armi E mi si è bloccato Mi si era totalmente bloccato Proviamo a vincere la partita In caso se muoio magari Me ne faccio un'altra Non lo so Vi metto i pezzi migliori Non lo so signori Cosa andrò a fare Nel dubbio Nel dubbio Vediamo se troviamo qui Qualche d'uno Sì Guarda come si sparano Guarda come si sparano 105 Dai ma era in testa Poi ora tutti che hanno Sta skin del galaxy O come si chiama Che mi sa tanto da skin Sì ce l'ho E sono un pro player E diciamo che mi spaventa molto Sto pompa non lo so usare Però dai Luta No non vuole lutare Perché non vuoi lutare Perché non vuole lutare Pusha pusha mazza Pusha pusha Dai Dai che sei bianco Sì Sì Dammi il tac Non bianco Vabbè dai Il tac bianco Che schifo Il tac bianco Oh mio dio Aveva il tac bianco Che schifo Qui niente di interessante Assolutamente no Perfetto Dai tutti con sto pompa Giocano Tutti con sto pompa Oddio ma hanno cambiato borgo Ma hanno cambiato borgo Ma cosa sta succedendo Cioè doveva essere un video Scopriamo robe incredibili Invece è diventato un video Vi prego Ditemi voi Le cose nuove Perché io non le so Dannazione Comunque abbiamo fatto La nostra kill Abbiamo ucciso Il nostro sosia Aquaman Diciamo che siamo diventati Noi Quello originale E adesso Sperando che non ci pushino Mentre luto Queste cose Qui Ce ne andiamo A trovare Altri cattivoni E mi è arrivata una cecchinata Ti ho sentito Sai Ti ho pure visto Ti ho pure Pietà Satta Dai non mi sembri Un fenomeno Bro Non mi sembri Un fenomeno Niente Ok faceva schifo Faceva schifo E signori Ci prendiamo il tac verde Perché Non so usare Quell'altro pompa Cioè proprio Neanche ci voglio provare Ad imparare Talmente non mi interessa Ho sentito Cecchinate Da dove Sarà da qua Sarà da qua Non lo sapremo mai Ma l'ho visto Wow 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 Stia buono Stia Buono Che pelo E' partito il build fight Quello bello gagliardo Ciao Dai edita Non edita Allora io scendo Mi son butté Niente Sono un idiota Allora non sembra male Ma a dirla tutta Aia Non sembra neanche un fenomeno Quindi Dai Dai No 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 Dai muori Sì 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 Abbiamo preso il rampino Signore Abbiamo il rampino Abbiamo il rampino Oppure la Thompson Fatemi prendere tutto Eppure il ciacoro Eppure questo Allora la Thompson C'è Preferisco il rampino Più pompa Sì Mi sa che me ne sto così Gioco cecco Rampino pompa Signori E' stata una scelta dura Ma questa è stata Vabbè Giocherò così Uh medikit Perfetto Perfetto Uh vabbè Quanta roba Perfetto Perfetto Abbiamo trovato il Valhalla Signori Il Valhalla Una pozza me la do E poi le altre Mi tengo gli scudini Dai Che be Cioè chi è che lascia dentro Tutta sta roba Uno ancora setappato Cioè uno setappato ancora meglio Tra l'altro mancano sette persone Noi siamo gli ottavi Qua c'è solo una pozza La Tom La Sì vabbè avete capito Bene 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 Siamo belli carichi E c'è la No non lo voglio dire Non lo voglio dire Altrimenti la gufo Quindi Guardia Non mi dia fastidio Grazie Ciao C'è un tipo C'è un tipo C'è un tipo Preso 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 No no Non abbiamo Calmi 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 che mi hanno picchiato Mi sa che mi torno nel bunker E mi do l'altra pozza va Dai l'elicottero Bugga Oddio ma signori Che gioco è Che continua a buggarsi Ogni 3x2 Ma dai Oh guarda come si bugga Dai Che fastidio Che fastidio E ora ti pusho Hai fatto il figo Ma ora verrai pusciato Di cattiveria Ma tanta Tanta Cattiveria 116 E ora ci muori male No Ho cicato Ho sbagliato Ta 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 Beh quanta vita quest'uomo Quanta vita quest'uomo Ta 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 Papà Quanta vita c'ha Oh Au No che schifoso ha giampato Che schifoso No ma ti vengo a prendere Cosa credi Dai è riuscito a scapparmi Quello scarsone Che fastidio Vabbè signori Avremmo una kill in meno Però almeno siamo salvi Qua tra l'altro C'è una mega navicella Incredibilmente strana E volevo vedere un po' il loot Qua vediamo Niente di incredibile Gli scudini però Me li voglio prendere Uh è nel cespuglio Stupido Stupido Dai ti ho sentito Ti ho sentito Boom headshot No Ci ho provato Guardalo lì Guardalo lì Ho 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 Pensavi di scapparmi Eh bitch Allora vediamo Cosa aveva Vediamo Cosa aveva Eeeh Vale la pena Vale la Uh si vale la pena Allora Lasciamo qui un attimo Il cecco Non cadere Ok Vai corri 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 Dai quanta vita sto perdendo Quanta vita ho perso Non so se ne valeva davvero la pena Dai allora Prendiamo Il cecco E ce ne andiamo Via 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 Quindi abbiamo tutto Si è messi molto bene Ci manca un po' di vita Però la recupereremo C'è un willy Dai dai Qua c'è un medikit per forza Per forza Uh si Flopper Dammi il flopper Dammi il flopper No 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 È la fine Signori è stato un piacere giocare con voi Spero che vi sia piaciuto il video Ma mi sa proprio che Ci dobbiamo salutare Dai Non voglio morire così Dai No 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 Guarda che infamone Guarda che infamone Cosa come fa a prendermi Oh Ok ho preso decisamente di cattiveria proprio L'altezza però Non ho vita Cioè se cado è la fine Vabbè che c'ho il rampino Però Addio No non è vero mai Non è vero mai Nella vita Quanti siamo in tre Uno mi sa che ce l'ho sotto Sì Ok senza il mi sa Uno è lì che è strapompato E la Oh medikit No dai Perché mi dovete far fare sta scelta Allora scendiamo Senza prender danno Grazie E scendi ancora senza Stavo subendo un botto di danno Mi nas No 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 che è stupido Non mi affa Signori Ci siamo mezzi suicidati È stata una partita Interessante Sono stato un idiota Sono stato un idiota Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Ma per Ma mi tolgo le cuffie Proprio Tristissimi Signori sono tristissimo Potevamo portarcela a casa Ho fatto un paio di errori Carina Atlantide come posto Abbiamo scoperto Che i vasi danno 15 di mattoni Ok Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un piaccio Commento Condividere il video Signori fate tutto quello che volete Intanto riscatto Ma voi non l'avete visto Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Alla solita ora Avevo due e un quarto Per questo periodo estivo Con un nuovo video Ciao Dai mancava pochissimo Dannazione Grazie a tutti